Credo sia il momento di parlare di guerre sottomarine, però attenzione non stiamo parlando di guerre tra sottomarini. Parliamo di altro, parliamo di una guerra sommersa che sta avvenendo sotto le onde dei mari e che riguarda dei cavi. E voi direte, cavi? Come si fa a fare guerre con i cavi? Beh, oggi ve lo spiego. Si tratta di cavi di una certa importanza in ogni caso. Sono i cavi sottomarini, quelli subacquei, che trasportano internet, mettiamola così, connettività. E collegano tra di loro diverse parti del globo. Uno di questi cavi, per esempio, hanno iniziato a posarlo a febbraio di quest'anno ed è un cavo piuttosto importante. E che ci riguarda da vicino, visto che collega l'Asia all'Europa. E la sua posa è stata affidata ad un'azienda americana. Ma il progetto, in realtà, è stato strappato via dalle mani dei cinesi. E qui inizia la parte interessante. Perché questa guerra riguarda proprio la posa di questi cavi. C'è infatti un'azienda cinese che si chiama HMN Technologies, che era una costola, pensate un po' di Huawei, ma oggi non c'entra più assolutamente nulla con Huawei. Che in pochi anni è diventata un leader del settore. Della posa dei cavi sottomarini. Cavi che potete immaginare sono di una certa importanza, anche per quel che riguarda le dimensioni. E ovviamente gli sforzi e le intemperie a cui devono resistere. Quindi è una tecnologia piuttosto avanzata. E i cinesi sono diventati piuttosto bravi con la faccenda, come è successo anche in altri ambiti. Questa azienda, pensate, era stata selezionata proprio per posare il cavo dall'Asia all'Europa di cui vi parlavo poco fa. E chi è il committente di quel lavoro, di quel cavo sottomarino? Beh, è un consorzio di aziende di telecomunicazioni, più di una dozzina, che appartengono a diversi paesi. Ce ne sono anche tre cinesi. Ma c'è anche di mezzo la Microsoft americana e la Orange, l'azienda di telecomunicazioni francese. È un consorzio internazionale. Questo consorzio di aziende aveva scelto proprio H&M per posare questo cavo, visto la loro ottima offerta e la loro grande capacità rampante in questa industria. Ma la cosa non andava a genio al governo americano. Il governo degli Stati Uniti d'America perciò ha portato avanti una enorme campagna di convincimento per riuscire a far strappare dalle mani dei cinesi l'accordo per affidarlo ad un'azienda, ovviamente, americana. E così il progetto i cinesi lo hanno perso ed è finito dritto dritto nelle mani di Subcom LLC. Reuters su questa storia ci ha fatto un ottimo approfondimento e hanno scoperto che non è neanche mica la prima volta che succede una cosa del genere. Anzi, sono state almeno sei le volte in cui il governo americano è intervenuto per bloccare sempre H&M, impedirle di posare cavi sottomarini che non riguardavano rotte che si intersecavano con i territori americani e addirittura in qualche caso sono arrivati a far ricostruire rotte di cavi che erano già state parzialmente realizzate perché non si fidavano della tecnologia cinese. La scusa ufficiale è sempre la stessa. Questi cavi sono molto suscettibili di operazioni di intelligence e i paesi che li posano potrebbero utilizzarli per spiarci, spiare le nostre transazioni bancarie, la nostra posta elettronica, le nostre comunicazioni con gli altri paesi. E la cosa ovviamente è molto grave. In realtà non è esattamente così, non è così semplice. Posare un cavo e anche eventualmente poterci inserire dei sistemi di sorveglianza non concede automaticamente la possibilità di sapere con precisione cosa passa attraverso quel cavo. Figuratevi che parliamo di informazioni cifrate ormai anche per quel che riguarda il traffico ordinario. Immaginatevi un po' dei livelli di cifratura raggiunti quando si tratta di dati e informazioni realmente importanti. Certo non sto dicendo che la questione della sicurezza vada presa alla leggera però alla stessa maniera non si può prendere sotto gamba una dichiarazione come quella che viene fatta tranquillamente sui giornali in cui si racconta di un mondo parallelo che non esiste in cui basta posare un cavo e avere quindi il controllo di conseguenza di tutto quello che ci passa attraverso perché non è così, è falso. È quella che altri chiamano disinformazione che però quando proviene dagli organi di Stato sappiamo insomma che dobbiamo chiamarla con un altro nome verità. Le storie che riguardano i cavi sottomarini comunque sono sempre fonte di grande tensione internazionale. Figuratevi che il mese scorso una isola di Taiwan un'isola minore di Taiwan è stata tagliata fuori da internet perché qualcuno ha tranciato proprio i cavi sottomarini e il governo di Taiwan chi ha accusato immediatamente? Beh è chiaro il governo cinese. La cosa ha causato qualche tensione tra i due paesi ma di fatto poi Taiwan ha nicchiato cambiando narrazione e spiegando che non c'erano così tante prove per accusare i cinesi. La connettività comunque ormai è vitale per i processi industriali, per il commercio, per l'informazione per praticamente qualsiasi cosa quindi non deve stupire che eventi del genere conducano a scontri diplomatici tra diversi paesi così come secondo me non deve stupire l'attenzione che si mette nei confronti di chi realizza le infrastrutture nonostante il pericolo come ho già detto vada dimensionato nella giusta prospettiva altrimenti si rischia di fare banale terrorismo e gli americani non si tirano indietro neanche quando devono far perdere soldi alle loro stesse aziende Google, Meta, Facebook quindi e Amazon hanno perso decine e decine di milioni di dollari quando il governo americano le ha obbligate a ricostruire da zero infrastrutture sottomarine, quindi cavi che erano già stati posati per migliaia di chilometri ma improvvisamente il governo si è reso conto che non andava bene perché i fornitori erano cinesi e quindi andava tutto rifatto da zero e le aziende americane hanno rifatto tutto da zero perché ovviamente non ci sono alternative quando a chiedertelo è il governo ma se fare pressioni sulle proprie aziende è facile insomma alla fine dipendono sempre da te governo puoi varare leggi restrittive puoi metterle loro di bastoni fra le ruote come si fa a convincere 12 o più compagnie di telecomunicazioni di paesi molto distanti dal tuo? beh sapete bene che il governo americano su questo è maestro e la strategia utilizzata in questo caso è una strategia del bastone e della carota la carota è stato regalare milioni e milioni di dollari in formazione gratuita alle aziende delle telecomunicazioni che partecipavano al consorzio che avrebbe dovuto far posare il cavo tra l'Asia e l'Europa oliando gli ingranaggi giusti quindi e fornendo consulenze gratuiti a questi operatori il governo americano si è comprato di fatto queste aziende ma per essere sicuri quando si parla di americani si sa interviene anche il bastone e il bastone è la minaccia la minaccia aperta chiara e cristallina che il governo americano ha fatto nei confronti di questi operatori delle telecomunicazioni gli è stato detto in sostanza non fate affari con questa azienda cinese non vi conviene perché se domani ci gira male e se ci fate affari ci girerà male di sicuro noi la mettiamo sotto sanzione e i vostri bei milioni e milioni che avete speso per far posare questo cavo saranno gettati alle ortiche perché vi impediremo di utilizzarlo fatevi un favore il lavoro fatelo fare alla nostra azienda quella non la mettiamo sotto sanzione prendete l'oro prendete anche questo bel malloppo di soldi che vi regaliamo qualche corso senta nonna tutte le aziende hanno piegato il capo salvo le tre cinesi che erano coinvolte nel consorzio che se ne sono andate a gambe levate anche perché loro avevano evidentemente un altro governo ad alitare sul loro collo che probabilmente gliele avrebbe spezzato se avessero partecipato ad un progetto del genere dove i cinesi erano stati buttati fuori l'inchiesta di Reuters comunque è interessante perché mostra bene che l'intervento è stato istituzionale statale sono stati diplomatici americani in qualche caso si parla pure di ambasciatori ad intervenire per fare pressioni sulle aziende del consorzio e convincerle a non affidare l'appalto ai cinesi tutto questo avviene comunque senza che mai nella storia fino ad oggi sia stato dimostrata anche solo una volta la presenza di meccanismi di sorveglianza o di backdoor nella tecnologia cinese è vero simile ma sono tutte supposizioni al momento come potete immaginare però la Cina non è particolarmente felice di essere trattata in questa maniera ma la questione è molto delicata perché in questa faccenda nessuno ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti né le aziende tecnologiche americane Meta, Facebook, Amazon né ovviamente il governo americano né le compagnie di telecomunicazione internazionali né ovviamente gli attori cinesi tutti se ne stanno zitti o dovremmo dire acqua in bocca visto l'argomento segno che la tensione è effettivamente molto elevata e tutto questo si aggiunge rispetto a quello che sta accadendo nello scenario internazionale che invece è sotto gli occhi di tutti quindi la guerra in Ucraina le tensioni tra Pechino e Washington l'alleanza tra Putin e la Cina e tutto quello che conosciamo e che possiamo vedere in chiaro questa storia dimostra che ci sono diversi livelli alcuni dei quali noti soltanto agli addetti ai lavori di magari un singolo settore specifico come in questo caso quello della posa dei cavi sottomarini o al limite delle aziende e delle telecomunicazioni conoscendo questi fatti si contestualizzano meglio anche le dichiarazioni dei politici cinesi prendete per esempio ciò che ha detto il ministro degli esteri cinese Qinggang perdonatemi per la pronuncia ha detto che se Washington non cambia strategia le due potenze avranno necessariamente un conflitto un confronto diretto che detto da un cinese è preoccupante perché i cinesi solitamente non sono molto espliciti e questo è un linguaggio già piuttosto esplicito molto esplicito per i loro standard e per loro l'unico modo per evitare un conflitto è che l'America abbandoni la politica di contenimento nei confronti della Cina immaginatevi cosa succederebbe se le grosse aziende americane della tecnologia non potessero utilizzare connettività fornita da provider che utilizzano cavi cinesi non mi pare un buon affare no? ora è verosimile che i cinesi utilizzino la tecnologia per tentare di spiare ciò che fanno gli altri paesi secondo me non solo è verosimile ma è certamente così questo lo fanno tutti lo fanno tutte le grandi potenze quantomeno sapete benissimo che la stessa cosa le fanno gli Stati Uniti se avete mai letto quello che è uscito dai documenti di Snowden beh niente di tutto questo vi deve stupire a proposito ci ho fatto un video sopra un po' di tempo fa recuperatevelo qui sul canale questo quindi è soltanto uno scontro un braccio di ferro tra una potenza emergente ed una potenza egemone che inizia a perdere colpi e che utilizza un metodo simil mafioso peraltro per convincere il resto del mondo a fare ciò che lei desidera e anche questo direi che non è una novità in effetti non c'è niente di nuovo in quello che vi ho raccontato potevate immaginarvelo anche da soli applicate la stessa cosa ovviamente a tutti gli altri ambiti dello scibile umano perché la stessa cosa sicuramente starà succedendo in tanti altri ambiti che noi non conosciamo in questo momento questo però è importante per capire cosa succede veramente nel mondo pratico e reale che sta là fuori perché spesso le dichiarazioni che ascoltiamo dai ministri dai capi di stato mancano di un qualcosa in retroscena che noi non possiamo conoscere ma se siamo abbastanza bravi a cercare di immaginarceli beh noi vediamo il risultato finale le dichiarazioni pubbliche beh rendono conto anche delle cose segrete di quelle che non conosciamo e per questo rimangono sempre un ottimo indicatore della realtà e dello stato di salute dei rapporti tra i diversi paesi stato di salute che in questo momento lascia molto a desiderare è infatti molto cagionevole in questo istante ma ne parleremo presto nel dettaglio tranquilli tra non molto ricomincerò a fare dei video un pochino più animati e certamente meglio montati con qualche effetto speciale che vi piace tanto la musichetta sotto e tutti i nostri bei documentari che eravate abituati a conoscere tornano tornano sto solo avendo un periodo un po' difficile però potete seguirmi su Instagram ovviamente anche sull'altro canale YouTube il Pantoprazzolo dove ci sentiamo tutti i giorni e se volete nella newsletter in cui vi aggiorno una volta a settimana con un po' più di calma e con un po' più di approfondimento bene grazie per essere stati con me scrivetemi qua sotto cosa ne pensate dei cavi cinesi e ci vediamo prestissimo